Ciao cari amici, ieri i servizi segreti russi hanno svolto un'operazione molto importante a Crimea, all'ingresso in Crimea, hanno fatto un arresto molto significativo, io ho condiviso sul mio canale privato Telegram il video, quindi se volete approfondire vi invito di fare abbonamento, il link per abbonamento troverete nella descrizione di questo video, si tratta di un arresto che in pratica è il frutto di un lungo lavoro operativo, ovviamente svolto durante le ultime settimane, probabilmente anche mesi, in pratica cosa è successo? I servizi segreti russi hanno seguito un personaggio che viveva sul territorio controllato dai russi, ma che hanno scoperto nella sua attività precedente all'ingresso della Russia sul territorio che adesso sta controllando, lui collaborava attivamente con i servizi di sicurezza ucraina, quindi lui era uno degli agenti della SBU, cioè Servizi Segreti Ucraina. Questo personaggio è stato ovviamente preso sotto controllo, io non so particolare perché i russi non dichiarano queste cose, i russi non parlano di come hanno ottenuto le informazioni, probabilmente a mio avviso c'è stata una soffiata perché sapendo come funzionano queste cose, un pochettino le conosco, si tratta sempre di qualcuno che rivela la verità sull'attività di qualcun altro. Quindi probabilmente durante un lavoro operativo hanno scoperto attraverso qualche soffiata che esiste questo personaggio sul territorio controllato dai russi che in realtà da sempre lavorava per SBU, l'hanno trovato, hanno cominciato a seguirla, hanno cominciato pedinaro, hanno cominciato a ascoltare il suo telefono, a vedere con chi lui è in contatto e hanno scoperto in pratica una rete terroristica organizzata da Servizi Segreti Ucraina con partecipazione anche dei personaggi dell'Occidente. Cosa significa? Che la Nato in particolare stava organizzando gli attentati terroristici sul territorio della Federazione Russa, in questo particolare si tratta della Crimea, come sapete penisola di Crimea e il territorio russo, e in questo territorio russo i rappresentanti della Nato, dei servizi di sicurezza, servizi segreti dei paesi della Nato, stavano organizzando gli attentati terroristici usando questa rete degli agenti ucraini che è rimasta in federazione sul territorio gestito dalla Federazione Russa. In particolare cosa è successo? Questo tizio in certo punto, dopo un po' di mesi di preparazioni, attese, ha deciso di ricarsi con la sua automobile in Crimea. Quindi i russi l'hanno seguito, quando lui è arrivato a un punto di controllo che si trova a Jankoi, voi sapete che la Crimea ancora ha una struttura di posti di blocco di passaggio di controlli, per quale motivo? Perché c'è un'alta possibilità di organizzazione degli attentati terroristici sul territorio della Crimea, per questo motivo i russi continuano a monitorare l'ingresso di ogni automobile, soprattutto automobili che trasportano qualcosa, i camion, oppure i pulmini, trasporto pubblico, perché delle regioni controllate dalla Russia nel Donbass, come Repubblica Lugansk, Repubblica di Donetsk, oppure Zaporogie, verso Crimea, viaggiano anche di autobus di linea, sono autobus di trasporto delle persone, si può pagare un biglietto, prendere un autobus e andare a Crimea a trovare propri parenti, trovare delle amici, oppure passare qualche giorno al mare, questa cosa lo fanno adesso le persone che vivono in quei territori, nonostante la guerra, nonostante la brutalità della situazione in cui si trovano, comunque riescono a dedicare qualche giorno della loro vita anche al riposo, a una piccola vacanza, e comunque questi mezzi di trasporto ogni giorno quando percorrono questo posto di blocco vengono controllati, ci sono le squadre speciali di artificieri sul posto di blocco, i cani che sono in grado di sentire l'odore di sostanze esplosive che cercano insieme con artificieri l'esplosivo a bordo, ci sono i robot speciali che attraverso un sistema laser, tra l'altro questo sistema è stato creato in Cina, adesso lo utilizzano anche i russi, praticamente un robot che va sotto la macchina e con laser sta esplorando la parte bassa dell'automobile e si vede anche un qualcosa minimamente strano che non corrisponde all'originale della struttura dell'automobile, lui subito attira l'attenzione e artificieri approfondiscono. Questa macchina comunque è stata fermata da militari sul posto di blocco come si fa con ogni ispezione, in maniera abbastanza tranquilla hanno invitato il signore lautista, in questo caso il terrorista, di uscire dall'auto, lui ovviamente obbedito, tranquillo, l'auto è stata messa su un luogo secondario e lì hanno trovato in un posto, in un nascondiglio organizzato sotto il posto di guida, un recipiente dove c'erano i vari particolari per poter costruire una bomba magnetica che probabilmente dopo doveva essere creata, assemblata e montata sotto l'automobile o sotto qualche struttura che i terroristi della Nato, i terroristi ucraini, volevano colpire sul territorio della Crimea. Quindi i russi hanno smontato non ordigno già preparato ma una scatola di plastica nella quale c'erano tutti i componenti per poter preparare l'ordigno. Esaminando i componenti a partire dalla tipologia dell'esplosivo che è un plastico utilizzato dai paesi della Nato, non proveniente dal blocco, diciamo, russo, con finire con dei sistemi elettronici, con detonatore e tutto quanto, tutto dimostra che si tratta di un meccanismo proveniente dai paesi della Nato. Addirittura dicono che i magneti di forma rotonda che dovevano essere usati per agganciare la bomba alla struttura di metallo dell'automobile, pure questi magneti sono di produzione occidentale. Quindi i russi sono al 100% sicuri che si tratta di un'organizzazione terroristica gestita dalla Nato. Il signore è stato arrestato e sta già dando, diciamo, le informazioni, lo stanno già interrogando. Per ora i russi hanno detto che non condivideranno le informazioni perché si tratta di una rete terroristica e finché loro non trovano tutti i componenti di questa rete, loro non vogliono rivelare, diciamo, troppe informazioni alla stampa. Però intanto il fatto che hanno mandato già video, hanno fatto capire chi era l'autista, significa che questo è anche un messaggio che i russi stanno dando ai terroristi della Nato, ai gestori di questo terrorista, che guardate che noi abbiamo beccato il vostro agente e quindi presto dovete aspettare altre sorprese. Quali conclusioni possiamo fare da questa storia? Innanzitutto per l'ennesima volta noi vediamo che non riuscendo a fare niente di realmente significativo in prima linea nella guerra reale, ovvero scontro militare tra due eserciti, la Nato non ha alcun problema di assoldare i terroristi e di impostare un sistema di azione di carattere puramente terroristico. Perché quando noi stiamo parlando di far esplodere le automobili nelle zone che non sono direttamente legate alla prima linea? Sicuramente si tratta di volontà di colpire qualche rappresentante dell'amministrazione civile della Crimea. Io non penso che loro volevano far saltare l'automobile di qualche civile insignificante. Probabilmente si trattava, come è già stato fatto nel passato, di organizzazione di un attentato o contro un membro dell'amministrazione della Crimea o contro qualche giornalista, come ad esempio hanno fatto ammazzare così Daria Dugin, la figlia di il filosofo russo Dugin, che era giornalista, che era molto attiva nel riportare le notizie dalla prima linea e bisogna dire che a parte la sua attività giornalistica, Dugin soprattutto era anche un simbolo di una Russia che non vuole piegarsi a quelle che sono la violenza e le minacce dell'Occidente, perché ricordiamo che Daria Dugin era inserita nella stessa lista, nella stessa kill list Miratvorets, dove sono stati inseriti tanti altri giornalisti, opinionisti, scrittori, persone di cultura persone provenienti da tutto il mondo, lista Miratvorets, dove ci sono tra l'altro anche io e il vostro umile servo dal 2015 che io sono in quella lista e Daria Dugin era inserita in questa lista proprio come un obiettivo da colpire e da eliminare, come ad esempio era mio amico Lesbousina che è stato in effetti nel 2015 ucciso dai nazisti ucraini e queste azioni dimostrano che va nato il blocco occidentale, non ha alcun problema non solo di sostenere i terroristi, come ad esempio hanno ampiamente fatto nel passato in Afghanistan, in Iraq, recentemente in Siria, in Cecenia, ma adesso in Ucraina loro stessi loro stessi compiono le azioni terroristiche, cioè quello che loro adesso hanno fatto, non è che hanno semplicemente aiutato all'azione terroristica, loro hanno guidato l'azione terroristica, cioè i loro agenti, i loro strutture di informazione che ovviamente danno informazioni agli ucraini, perché gli ucraini non hanno una loro rete di informazione, gli ucraini ricevono tutte le informazioni delle strutture della Nato, il drone della Nato che sorvola il Mar Nero in diretta fornisce le informazioni agli ucraini, gli ucraini lo sanno tutto quello che succede in Crimea grazie alle informazioni che ricevono dalla Nato, perché non hanno una loro struttura di informazione. E ovviamente anche questo riguarda il materiale, le munizioni e tutto quanto che serve per le azioni terroristiche, tutto questo viene fornito dalla Nato, per cui qua si può dire che la Nato è direttamente presente nell'organizzazione di questi attentati terroristici, quindi la Russia quando ha condiviso questa notizia quest'oggi ha dato un messaggio molto importante al mondo intero, loro hanno spiegato guardate che noi abbiamo fatto un arresto di un membro di organizzazione terroristica della Nato, è molto semplice, la Nato si occupa del terrorismo sul nostro territorio. Questa è la realtà oggettiva. Ad alcuni può non piacere, qualcuno può anche contestare questa cosa dire ma sì ma è un elemento elettronico, il plastico si può comprare ovunque, ci sono anche criminali che usano queste cose, il detonatore ma chi se ne frega lo si può trovare anche per terra magari nelle zone di combattimento e così via. Però amici qua non si tratta di solo l'arma del futuro delitto, della futura azione terroristica. Qua si tratta di una rete di agenti, dell'informazione, della pianificazione. Tutto questo è chiaro che gli ucraini da soli non ce la fanno gestire. In effetti quando di recente si è parlato di una rete della CIA attiva sul territorio dell'Ucraina che degli anni 90 sta preparando e sta addestrando i sabotatori, i terroristi, le persone che cercano di colpire il territorio russo, noi stiamo parlando di un vero e proprio piano di azioni terroristiche sul territorio della federazione russa, non sta parlando di una combricola di agenzie o di organizzazioni che stanno lì solo per contrastare, come dicono alcuni, la Russia o per osservare o fare altre cose. Questa parlando di azione di un'organizzazione di spionaggio che si occupa di terrorismo contro la Russia. Questa è la realtà oggettiva. Cari amici è molto importante questa notizia, anche se i media occidentali non le riportano assolutamente, io ho guardato tutti i notiziari, non c'è neanche una virgola su questo, ed è chiaro perché è molto grave per l'Occidente ammettere che uno dei loro terroristi è stato arrestato, cioè questo è veramente un fallimento totale. Quindi bravi i russi, bravi servizi di antiterrorismo russi e purtroppo la Nato ha dimostrato per l'ennesima volta di essere un'organizzazione terroristica, ciò che io sostengo da parecchi anni. Amici, con questo io vorrei salutarvi, ringraziarvi per la vostra attenzione, vi ricordo che se volete approfondire questa e altre informazioni molto interessanti censurati dai nostri media, non approfondite dai nostri giornalisti, perché sono pagati giustamente da stessi oligarchi che cercano di portare avanti questa guerra, io vi invito di fare abbonamento, il link per abbonamento al mio canale privato Telegram trovate nella descrizione di questo video, ci sono tantissime informazioni, c'è tantissimo movimento sulla mia pagina, veramente ci sono molte persone che riescono a aprire gli occhi e capire molto sulle questioni che da noi nell'Occidente vengono raccontate veramente da un'angolazione totalmente diversa, totalmente degradante. Se volete sostenermi invece qua su YouTube, io vi invito di iscrivervi alla mia pagina, di commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Vi ricordo che in tutte le librerie dettagli c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio, lo vedete qua alle mie spalle, si tratta di un libro in cui io racconto le origini della guerra in Ucraina, se vi interessa questo argomento vi invito di leggerlo e poi magari fatemi sapere cosa ne pensate. Amici, con questo vi saluto, vi mando un forte abbraccio e vi voglio bene.